Ciao tesori e bentornati o benvenuti nel mio mondo. Su questo canale parliamo di arte e creatività facendo scemità, quindi non prendendoci troppo sul serio, anche perché non potremmo farlo. Se vi interessano queste cose potreste iscrivervi. Ed eccoci qui con lo scopriamo dello scleriamo di ieri e sì, il pigmento che è caduto è ancora lì perché dopo faccio altre creazioni e lo prendo direttamente da lì. E allora, vediamo un po' da cosa iniziamo, iniziamo da questi, se mi sembra una buona idea. Andiamo un po' qua. Oh wow, che carini! Questi vengono degli orecchini stupendi. Wow, che bello, mi piace un sacco con questo pigmento messo solo da un lato. E mi piacciono tantissimo. Ok, andando avanti, vi ricordo, tesori, che questi stampi li potete trovare sia sul sito di Gea Creations insieme a tantissimi altri stampi Sia sul sito di ResChimica dove sono in pronta consegna. Allora, vediamo quest'altro. Che bello il rumore che fa questo. Belli, adoro. No, ve l'ho detto, i pigmenti in scaglie in questa tipologia di stampo danno davvero il meglio. Sono bellissimi. Ok, adesso andrei a scoprire le lanterne. Vediamo questa com'è venuta. Questo era un po' uno scartino che ho fatto. Con l'omaiolo! Cioè, guardate. Dai, non è venuta male. Pensavo peggio. Pensavo peggio. Invece, come effetto è carino. Wow! Omaiolo, omaiolo! Vediamo queste altre. Queste poi le voglio decorare. Sono della nuova collezione giapponese. Queste. Allora. Ecco la prima. Io amo alla follia le lanterne fatte con i foil iridescenti. Perché i foil permettono alle incisioni di uscire fuori in modo perfetto. Cioè, guardate qua. Io voglio dipingere quella che è solo la base della lanterna. Però il resto non ha bisogno di essere dipinto, di essere enfatizzato. Cioè, è perfetta così. Che bello. Spero venga bene dopo. Ok, questa è venuta bene. Vediamo questa. Eccola qui. Guardate. Anche questa mi piace tanto come è venuta. Sì, con questo bonsai all'interno. Bella. Speriamo dopo di riuscire a decorarle bene. Ed eccole qui. Le nuove lanternine giapponesi. Ok, poi sulla scia del Giappone andiamo a vedere questo set con il ciondolo e i fiorellini di ciliegio. Vediamo se sono riuscita a fare una cosa decente anche senza stuzzicadenti. Allora, me lo aspettavo diverso. Sarà che il rosa di questo pigmento olografico non è molto rosa. Cioè, me lo aspettavo molto, molto, molto più rosa. Non so, forse devo cercare un altro pigmento. Però non è male. Non è male. Cioè, l'effetto o maiolo c'è. Vediamo invece i fiorellini come sono venuti. Bello. Questo mi piace di più. Così. Però, vedete, non è molto rosa. Anche in controluce il pigmento non è... Eh, vabbè, tu volevi andartene già da una vita. Va e vivi da solo. Cioè, vedete, non è molto rosa. Però, e vi faccio vedere lo stampo è pensato perché così questi potete metterli sul ramo a vostro piacimento. Potete metterli tutti, potete poi farci degli orecchini. Vedete, o comunque metterli, metterne qualcuno così in 3D. Cioè, secondo me è una cosa molto carina. A questo punto non nutro grandi speranze per il segnalibro, ma vediamo. Non si sa mai. Guardate che è al contrario. Pronti? Allora, questo è un pochino meglio. Oh, guardate, è così com'è bello. Wow, così è bellissimo. Allora, mi piace, devo dire la verità, mi piace. Pensavo però di non decorarlo. Invece, secondo me, se andiamo a decorarlo e a definire bene tutti i contorni, esce ancora più bello. E vediamo anche questo, che, raga, cioè qui è proprio l'omaiolosità a tutto. Guardate! Wow, bellissimo! Ho utilizzato il pigmento olografico verde. Però era un verde caccole di troll. E secondo me ci sta benissimo. Ok, andiamo a vedere adesso gli uccellini sbrilluccicosi. che ieri non so perché li ho fatti con quel pigmento che mi era caduto. Vediamo. Allora, eccoli qui. Questo è uno degli uccellini magici. Vediamo quest'altro. Beh, non è male. Devo provare a rifinire i dettagli perché visto così, beh, lo sa di uccello magico. Sì. Ok. Interessante come effetto, interessante. Questa è l'ortensia. Anche questa dobbiamo vederla decorata perché sto sbrilluccichio non mi dispiace. Però qui non si vedono bene i dettagli. E vediamo le rondinelle fatte col pigmento olografico nero. Allora, questo pigmento è un po' più sobrio rispetto agli altri. Cioè, vedete, non fa proprio quell'arcobaleno sparaflesciante. Lui resta un po' più umile, però vi devo dire mi piace. Ok, poi ho lasciato il sottobicchiere a ortenza per ultimo perché è quello di cui sono più curiosa. Questo ovviamente potete utilizzarlo anche come base per le creazioni o curvarlo, farlo diventare un piccolo svuotatasche, un portabiju. Cioè, potete fare quello che volete. Vediamo. Wow. Dai, mi piace. Mi piace tantissimo. Infatti, ve lo vedete dal vivo. Dal vivo questo viola è bellissimo. Io non capisco perché è insovere. No, niente, proprio non riesco a farvelo vedere. Però vedete, ha fatto pure questo effetto velluto. Molto bello. A me piace molto. Ma devo solo decidere che colore farlo. Anche se poi vi dirò, messo così, vedete, i dettagli si vedono bene. Cioè, non c'è bisogno di andarli a rifinire. Però non lo so. Perché tipo così non si vedono molto, si perdono. Però che bello. Allora, tesori. Ho decorato e alcune cose sono venute carine, altre sono completamente da scartare. Tipo, il ciondolo hortensia, cioè, questo è venuto proprio male. Questo non si capisce niente. Sembra più un cervello spappolato. Non mi piace. Idem per gli uccellini. Ho provato a colorare i dettagli col color giada, ma... Le rondini invece sono venute molto carine. Mi piacciono tanto. Guardate che carucce. Questo qui è il segnalibro e non è venuto male. Mi piace, ma voglio fare altre prove. I dettagli li ho decorati principalmente con questi Inca Silk. Soprattutto con questo che ci stava super bene. Berry. Questo della morte mi piace tantissimo come è venuto. Guardate, cioè, trovo che i dettagli siano usciti proprio bene fuori. Il sottobicchiere che, ok, mi piace, ma possiamo fare di più. E quelle che mi hanno dato più soddisfazione in assoluto sono sicuramente le lanterne. Guardate che belle. A centro non sono proprio andata col colore. Sono rimasta solo sulla parte superiore e sulla parte inferiore. E mi piacciono da morire. Fatemi sapere cosa ne pensate. Per me loro hanno vinto tutto. Ah, ho provato a decorare anche il ciondolino, ma purtroppo anche questo non mi ha convinta. Ok tesori, il mio video finisce qui. Adesso resto in attesa dei vostri commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete questi stampi, come avete realizzato voi queste creazioni. O che colori mi suggerite di utilizzare per la prossima volta. Grazie mille per supportarmi sempre e vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!